Eccoci qua, buonasera da Pierluigi Senatore, grande appuntamento questa sera sulla pagina Facebook di Radio Bruno, un appuntamento con un personaggio che andremo a scoprire attraverso il suo ultimo libro, quindi non attraverso un disco, non attraverso un CD ma attraverso un libro. Il libro si chiama Spacca l'infinito, il romanzo di una vita e questa la copertina come vedete estremamente colorata e con noi questa sera Piero Pelù. Ciao Piero. Ciao a tutti, ciao Pierluigi, come va? Abbastanza bene, ti vedo barricadero e ti stai già preparando per il concerto del primo maggio immagino, quindi sei già preparato. Senti a proposito, poi arriveremo subito sul libro, tornare su un palco, in questo caso il primo maggio, anche se non ci saranno le folle oceaniche delle quali tu ti erai abituato in questi anni. Che significato ha per te? Quest'anno il primo maggio ha una valenza veramente particolare perché stiamo cercando di uscire fuori da una situazione disastrosa per tutto il mondo della musica, soprattutto per il mondo della musica rock, pop, leggera, cioè tutta quella musica che non ha potuto lavorare da 14-15 mesi a questa parte e che non ha ricevuto diciamo quelle sovvenzioni che altri settori della musica e della cultura invece hanno ricevuto. Quindi si sta parlando soprattutto per quello che riguarda le maestranze, cioè tutte quelle persone meravigliose e numerosissime che sono fondamentali perché uno spettacolo prenda forma e si realizzi sera dopo sera, a volte anche facendo tantissimi chilometri da una tappa all'altra, persone che dormono pochissimo, che sono i primi a arrivare e gli ultimi a partire. Ecco, tutte queste persone hanno perso il lavoro e quindi ci ritroviamo tutti nella condizione di dover far ripartire il grande mondo della cultura in generale e della musica in particolare anche del teatro perché tante persone hanno bisogno di lavorare. Quindi speriamo che un po' il contagio che si abbassi, i vaccini, l'intelligenza delle persone che capiscono che ancora non è finita, il problema non è finito, bomba liberi tutti non funziona in questo momento e ce lo dimostra anche l'Inghilterra che ha fatto bomba liberi tutti e sono tornati i contagi e purtroppo anche i decessi, nonostante la quantità di persone vaccinate, questo è un virus estremamente bastardo, usiamo le parole giuste, e inacciuffabile. Purtroppo ci sono anche le varianti, c'è questa anche nuova variante indiana, oltre a quella inglese, a quella sudamericana, eccetera, sudafricana, bisogna stare ancora molto attenti, il che non significa non uscire e non fare niente, si può fare tutto però con intelligenza. Allora Piero, arriviamo invece al tema della nostra serata, allora sgombriamo subito il campo, questo tuo nuovo libro, Spacca l'infinito, il romanzo di una vita, non è la storia dell'Itfiba, sgombriamo il campo, anche se l'Itfiba evidentemente sono presenti come tutti. Però se uno si aspetta di prendere questo libro e trovare la storia dell'Itfiba, in realtà trova delle porzioni di storie, e invece la storia di Piero Pelù, della sua famiglia, delle origini e del perché Piero Pelù è diventato quello che è. Quando però mi trovo davanti a un libro di memoir come questo, mi viene sempre in mente una frase di Gabriel Garcia Marquez, che diceva che la vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. È un po' il senso anche del tuo romanzo? Perché è scritto come un romanzo di fatto. Grazie, hai fatto una citazione stupenda perché Marquez è uno dei miei preferiti, in effetti anche all'inizio del romanzo, lo dico in un disclaimer, che i personaggi sono tutti più o meno reali, ma la forza della scrittura, chiamiamola così, del tentativo anche di romanzare ha fatto sì che si siano un po' trasformati. Io credo che la maggior parte dei romanzi nascano da situazioni vissute o comunque lette da qualche parte e poi i vari personaggi si animano anche di una vita propria, di una luce propria, di una psicologia propria. E quindi è la prima volta che scrivo in forma di romanzo. Devo dire che se non ci fossero stati tutti quei mesi in cui siamo rimasti chiusi in casa, probabilmente vi avrei risparmiato anche questa intervista, però è uscito, il romanzo è uscito. E sono andato a proporlo alla Giunti, si sono appassionatissimi e quindi il progetto è andato avanti e mi sta dando anche tante soddisfazioni. È la prima volta anche che scrivo in terza persona, che per me è una novità assoluta, anche perché volevo uscire proprio dal personaggio Piero Pelù, che più o meno si conosce, diciamo, o almeno si pensa di conoscere. Ho creato questo alter ego all'interno della storia che diventa anche un grande pretesto, un grande catalizzatore di storie. Tutto questo si svolge tra l'altro dentro il Parco di Boboli, qui a Firenze, che è un parco che chi conosce un po' Firenze probabilmente ha frequentato il primo giardino all'italiana della storia, da cui poi si sono ispirati anche tutti i giardini meravigliosi, ad esempio della Valle dell'Aloira in Francia. E lì succedono delle cose abbastanza surreali, ma che del resto sono anche giustificate dall'inizio del romanzo, e cioè che il protagonista di questo romanzo è un insonne, non dorme la notte, e quindi si ritrova spesso a sognare di giorno. E questo quasi romanzo è un... potrebbe essere anche un sogno a occhi aperti. Dobbiamo dirlo. Allora, in questo tuo romanzo, io lo chiamerei così perché la scrittura è quella di un romanzo, è la tipica scrittura di un romanzo, tu l'hai detto, scrivi in terza persona, i capitoli sono alternati con piccoli capitoli in corsivo, in cui tu dialoghi con un bambino ed è quello che tira fuori il Piero Pelù più naturale, più originale. Tu che hai scritto il libro hai conosciuto molto bene Piero Pelù, o anzi P, come lo chiami nel libro. C'è un certo punto all'inizio dove tu accenni al fatto che A.P. era stato detto di tutto, nel senso era un anarchico, un comunista, per come vestiva, un fascista, eccetera, eccetera, e aggiungi anche complottista. Che complotti aveva fatto? No, lì c'è un elenco, diciamo, degli epiteti che durante gli anni sono stati appioppati a Piero Pelù, parlo in terza persona, perché non riguarda me questa storia, naturalmente, è tutto un romanzo. però effettivamente sì, si è sentito dare del fascista, perché quando era ragazzino punk e girava con una giacca di pelle nera, in quegli anni a Firenze, tutte le varie tribù metropolitane avevano ancora catalogato, diciamo, la figura del punk rocker, che aveva il giubbotto nero di pelle. E quindi quei giubbotti neri erano quelli che, per l'immaginario, ancora usavano i fascisti. E quindi si è sentito dare di fascista, di comunista, di anarchico, di froscio, di violento, e anche di complottista, perché figurati una volta in un programma, ma nella maniera più innocente del mondo, sia ben chiaro, si sta parlando anche di molti, molti anni fa, si sta parlando ancora del tipo del 2008. Circolava questa ipotesi, effettivamente abbastanza delirante, che potesse esistere un qualche progetto per cui dagli aerei venissero sparati dei determinati prodotti chimici per indurre la popolazione locale a determinate scelte di vita, che si chiamavano sci e chimiche, queste cose. quando venne fuori per la prima volta questa notizia, poteva sembrare anche un'ipotesi, seppur un po' fantascientifica, comunque interessante. Allora, Piero domandò questa cosa in qualche programma e da lì fu subito etichettato come complottista. Quindi ci sta tutto. Non si comprende, non c'è spazio per il bambino che c'è dentro ognuno di noi, purtroppo. E del resto anche... E questo lo dico anche chiaramente in un punto del romanzo che appunto P dice, questo suo alter ego dice se io mi fossi dimenticato del bambino che c'è dentro di me, la mia vita sarebbe stata molto più triste. Quindi alla fine P preferisce essersi beccato tutti quegli epitoti completamente deliranti piuttosto che avere rinunciato alla naivete, alla semplicità, all'istinto anche del bambino che c'è dentro di voi. Bastava che quelli che appunto ti etichettavano in vari modi avessero ascoltato quel brano dei Tube I was a punk before you were a rocker ieri un punk prima che tu diventassi un rocker già li avrebbero capito tutto. Allora, dico ai nostri amici che ci stanno seguendo che i frequenti francesismi di Piero Pelou sono legati al fatto che la famiglia gli antenati chiamiamoli così sono originari della Francia e quindi gli è rimasta la passione per la lingua e per la Francia per... Forse forse per Parigi un'ipotesi abbastanza accreditata in base anche a degli studi che aveva condotto un mio zio un fratello di mio padre che si interessò alle origini del cognome Pelou perché effettivamente oltre la mia famiglia in Italia non esiste nessun altro Pelou e io invece ho incontrato nelle mie tournee e anche attraverso la mia curiosità diversi Pelou scritto proprio P-E-L-U con l'accento perché in effetti si può scrivere anche P-E-L-O-U oppure P-E-L-O-U-X e il suono sarà sempre lo stesso in Francia questo mio zio fece appunto queste ricerche e scoprì che c'era un Pelou che era comparso nelle zone apuane da cui ha origine la mia famiglia da molte generazioni che era sicuramente un soldato dell'esercito di Napoleone che aveva invaso l'Italia del nord erano arrivati fino alla Russia e poi il generale Inverno li respinse indietro ma insomma questo soldato a un certo punto decise di disertare e quindi probabilmente ci sono vari semi in questa ipotesi antica dei primi dell'Ottocento cioè che sì una probabile origine francese da cui anche la mia forte predisposizione verso quella lingua e poi anche sicuramente il mio essere obiettore di coscienza allora a proposito di lei poi chiudiamo questo tema della Francia e Parigi c'è un gustoso capitolo all'interno di questo tuo libro dove tu racconti un'avventura capitata a Parigi insieme alle tue figlie in quel caso è venuto fuori gustosa gustosa si fa per dire in quel caso è venuto fuori gustosa per chi la legge forse no perché è finita bene ecco diciamolo in questo modo vedi tutti questi capelli bianchi li vedi sono venuti fuori a Parigi almeno la metà sono venuti fuori quel giorno no la cosa bella è che è venuto fuori il babbo chioccia che c'è in te perché eh sì insomma chioccia il babbo il babbo imparanoiato più che altro perché posso fare un accenno insomma mi trovavo a Montmartre con le mie figlie in un viaggio premio diciamo il padre che si porta le sue tre figlie una di 18 una di tredici e una di quattro anni eh da solo a Parigi e a un certo punto le figlie scompaiono ma scompaiono veramente per molte ore tantissime ore con i cellulari che non funzionavano e non rispondevano e negli anni in cui sparivano tanti bambini non che oggi purtroppo non succeda ancora questa cosa ma c'è stato un momento negli anni zero in cui si parlava moltissimo di questo di questo oggi si chiamava dark web ma allora era un dark movimento che purtroppo rapiva moltissimi bambini li teneva in schiavitù poi con tutte anche altre cose ancora più orribili che venivano fatte a quelle povere creature e insomma nella mia mente sono passati anche quei pensieri estremamente estremamente duri da accettare e per di più mi ritrovai in una stazione della polizia proprio a Montmartre al Sacro Cuore dove su una parete c'erano le fotografie di tantissimi bambini scomparsi sembrava una tortura psicologica tra cui la povera bambina Celentano di cui tuttora siamo tornati a parlare per una probabile e anche credo doverosa riapertura del suo caso e poi sono tornati a casa poi ti è arrivato il conto la carta di credito e lì è scattata la tragedia ma questo è un capitolo che non è presente quello della carta di credito e allora abbiamo introdotto il tema dei viaggi perché questo è anche un libro dove tu racconti molti dei viaggi di P quindi non i tuoi ma quelli che tu avresti voluto fare in realtà li ha fatti P per te e ci sono alcuni consigli di viaggio tu in particolar modo consigli una località in Messico dove ti sei fermato una notte non badando ai consigli di tre vecchiettine inglesi che loro sono abituati a girare concentrato su tutte le storie più tranquille e beh e questo la curiosità la scateniamo in questo modo e quindi la voglia di leggere di leggere perché non hai ascoltato le tre vecchiette che tu lo sai guarda anche la regina Elisabetta è una vecchietta che dà i consigli utili a tutti invece no duro ai suoi nipoti beh dunque quelli sono naturalmente le impennate di ingegno di un giovane viaggiatore perché in quel caso P era un giovane viaggiatore non aveva ancora girato così tanto era il primo grande viaggio che faceva da solo all'avventura vera cioè senza una guida scoprendo luoghi pazzeschi nella giungla nel Quintana Roo nello Yucatan America centrale insomma in quel grande territorio per fortuna ancora con una tra l'altro ho letto scusate se apro questa parentesi ho letto proprio ieri una notizia meravigliosa e cioè che proprio nelle zone dove io sono stato dove P è stato dopo il Diablo Tour e quindi in quel lontano 91 del secolo scorso e c'è stata una joint venture di cittadini che ha comprato un enorme territorio di giungla per salvaguardarlo dalle multinazionali del legname nonché dello sfruttamento dell'olio di palma eccetera una bellissima notizia questa credo che si tratti di almeno 50 chilometri quadrati di giungla con una biodiversità pazzesca naturalmente dentro quindi una stupenda notizia bene a proposito di biodiversità P in quegli anni non era particolarmente attento alla biodiversità e soprattutto ai consigli che gli venivano dati da altri viaggiatori molto più esperti di lui e che gli sconsigliavano di attraversare da est a ovest lo Yucatan ma non perché fosse tutta giungla o perché ci fossero fiumi particolarmente pericolosi pieni di caimanes eccetera no perché non esistevano villaggi attrezzati alla a ricevere diciamo dei viaggiatori e questo non è un dettaglio infatti P si ritrova nel luogo più sperduto dove si sia forse tra quelli più sperduti dove si è trovato nella sua vita ed è successo quello che troveranno sul libro ed è successa una cosa che poi qualche mese dopo si è manifestata ha avuto un seguito si è manifestata ti ha fatto fare ginnastica di altro tipo in quel caso per un po' di tempo senti volevo aprire solo una parentesi tu quanto hai invidiato barra odiato Ghigo Renzulli che ha suonato prima dei clash il primo giugno dell'ottanta a Bologna con i caffè Caracas no odiato non vedo perché invidiato tanto invidiato tanto perché suonare prima dei clash anche se poi Ghigo mi raccontava che insomma non ebbero un'accoglienza proprio calorosa no devo dire che vennero ricevuti con con adeguate lattine mezze piene che li colpirono più che altro in quegli anni fino agli anni ottanta diciamo finché c'è stata la lira guarda sembra una battuta ma finché c'è stata la lira c'era una moneta che era quella delle cento lire una moneta di metallo che era grossa e pesante e non valeva nulla per cui quando si voleva aggredire qualcuno si tiravano le cento lire ci sono stati dei periodi dei primi anni anche dell'itfiva dove in determinate occasioni sul palco volava di tutto bottiglie naturalmente tutto al mio indirizzo è ben chiaro e monete da cento lire la sera che registriamo l'album pirata che era un live poi rivisto in studio però era un live a Roma mi ricordo benissimo che durante pioggia di luce o Lulue Marlene comunque una ballata in cui una canzone in cui ero particolarmente statico mi arrivarono cento lire esattamente in mezzo agli occhi aprendomi un taglio se fossero state cinque centimetri più a destra o più a sinistra io avrei perso un occhio quindi si trattava veramente di armi di armi vere e proprie come tirare un sasso in faccia a una persona e Ghigo mi raccontava che a Bologna loro furono sommersi di monetine tutti aspettavano i leggi più importanti perché tutti volevano i Clash poi sai i Clash erano comunque poi in quel periodo erano ancora molto apprezzati da un pubblico punk assolutamente qua facciamo un po' di storia così la gente capisce l'età che abbiamo c'erano solo i rough punk all'epoca a Bologna che non li volevano però vennero messi in silenzio dei cento cell city rockers che li mesero in un angolo vabbè ma queste sono storie che sappiamo noi anziani non nel tuo caso guarda posso raccontarti un aneddoto pazzesco che mi ha raccontato che purtroppo non è finita nel libro perché non lo sapevo però sono andato a trovare Panariello e Giallini al loro programma molto bello su Rai 3 e quel matto di Giallini mi raccontava che quando i Litfiba vinsero il festival rock italiano a Bologna giugno 1982 quindi si parla di poco tempo dopo il concerto dei Clash che fu nell'ottanta dunque suonarono come special guest di quella sera dove i Litfiba vinsero poi ci furono gli Avion Travel lì De Novo insomma nomi importantissimi della musica italiana suonarono come special guest da Londra gli Exploited una band di punks not dead quelli che avevano proprio le super creste quelle altissime proprio tirate su proprio come come mega cool e come mega istrici e il cantante lanciava spesso quasi in continuazione il cantante insomma diciamo l'urlatore il frontman lanciava sempre il microfono in mezzo al pubblico a un certo punto questo microfono non tornò più su qualcuno del pubblico se l'era in termine tecnico si può dire inculato se l'era inculato può sempre servire un microfono è tecnico ma sì ma figurati poi era uno schiua per cui c'era un impianto serio e Marco Giallini mi ha confessato che a rubare quel microfono furono lui è un suo amico di nome pieno beh tanto il creato è andato in prescrizione quindi ha potuto raccontarlo sì sì l'ha raccontato per questo allora tu parli anche nel tuo romanzo parli di P quando andò lo scorso anno a Sanremo ricordiamo lo spacca all'infinito è una frase dal brano I giganti che tu appunto hai presentato al festival di Sanremo lo scorso anno la tua grande voglia era quella di fare il volo d'angelo appunto sulla sul pubblico del festival di Sanremo poi ti guardarono un po' male già Amadeus sarebbe andato si sarebbe suicidato in diretta se capitava questo però ho valutato io che avrei fatto più danni a loro che a me senti però che non è certo quello che voglio quando mi lancio sul pubblico visto che tu lo fai regolarmente nei concerti ti è mai capitato quello che è capitato a Morgan cioè che il pubblico si aprisse guarda è successo al primissimo concerto dei Litfiba quindi si sta parlando del 6 dicembre 1980 quando alla Roccoteca Brighton di Firenze che era stracolma di ragazzi era diciamo una grande cantina per cui ci saranno state 250 persone non si respirava eh tra la mancanza di ossigeno il fumo e tutto il resto veramente non si respira il pogo il sudore eccetera però ecco tipo alla quarta volta che mi tuffavo sul pubblico il pubblico che insomma mi aveva già abbastanza ammortizzato per tre volte alla quarta ha detto sai che spingiamoci un po' indietro però sai che a quell'età rimbalzi sei di gomma hai capito si può fare quasi tutto si può fare a quell'età tutto di più senti adesso P è più è il diablo o più un pirata o le due cose vanno insieme come nel caso ad esempio di Kate Richard che è il nonno di tutti i pirati certo certo beh diciamo che bisogna innanzitutto non bisogna mai rinegare quello che siamo stati perché se siamo stati qualche cosa in passato e siamo ancora vivi per raccontarlo vuol dire che c'era qualche cosa di buono quindi diciamo che mi sento la somma un po' di tutte di tutte le esperienze passate però per fortuna conservo ancora un fortissimo senso di curiosità rimango una persona estremamente curiosa e non ho paura di mettermi in discussione sono anche a volte anche forse anche troppo ipercritico nei miei confronti è super esigente nei miei confronti il che mi fa essere insopportabile agli altri perché lo sono pure con gli altri però almeno fino ad oggi la curiosità e qui si ritorna alla curiosità e allo sguardo del bambino rimane per me un grandissimo motore un grandissimo motivatore noi troviamo sul libro quelle che sono le tue passioni poi terremo anche uno spazio per parlare del tuo impegno ambientalista che credo sia particolarmente importante visto dove stiamo portando questa nostra terra però impariamo la tua passione per i mercati che è una delle cose particolari la passione di P per i mercati la passione per i tatuaggi e i tatuaggi come sono nati e perché nel senso che hanno un motivo per cui sono stati fatti determinati tatuaggi però la passione del mercato da cosa da cosa deriva tu cosa cerchi quando vai in un mercato diciamo quando si entra in una in una dimensione spazio temporale antropologica consentitemi questa espressione come un mercato e quello che si cerca se si è persone curiose è quello che non si è mai visto quello che non si è mai trovato o tutto quello che probabilmente pensiamo di avere già visto ma che ci si presenta in forme diverse che è la stessa ragione per cui mi vado a comprare il nuovo cd dei royal blood o il prossimo romanzo di vmig perché voglio anzi esigo quasi esigo di essere stupito di essere rapito di essere portato in una in una dimensione che che non conoscevo diciamo che in questo brevissimo viaggio che che corrisponde al nostro passaggio su questa terra mi piacerebbe mi piacerebbe aver vissuto tantissime vite allora sono arrivate intanto un po' di domande te le faccio insieme domande complimenti sono molti quelli che ti fanno i complimenti per il libro e quindi vuol dire che l'hanno già letto oppure sei stato particolarmente esaustivo questa sera raccontando la storia di P poi un nostro amico ci chiede ci sono nuovi progetti musicali magari con Elite FIBA a parte che tu hai un album che devi ancora finire di promuoverlo perché è iniziato il covid però ti chiedono se hai altri progetti musicali immagino non voglio rispondere io per te immagino che per chi ha come dire la tua passione per la musica perché nel tuo caso è sì un lavoro è sì una professione ma in realtà hai passione perché se no uno non regge 40 anni a questi ritmi i progetti sono in realtà aspetta scusa 41 di cui l'ultimo di covid allora 41 che vale 5 quindi sicuramente hai progetti o perlomeno ho visto che tu hai confessato che dormi anche poco e quando non si dorme si pensa eh ti ho detto che io quando arriverò al punto in cui saluterò questa dimensione conto di aver vissuto molte molte vite sì certo sì sì sto scrivendo ho scritto un sacco di cose in questo periodo oltre che romanzo ho scritto molta musica sto curando insieme a a un vostro conterraneo Carboni la colonna la colonna sonora per il film I Cassa Mortari di Claudia Mendola c'è una canzone che sarà la canzone del film che stiamo che ho scritto e che stiamo producendo insieme che sarà una bomba atomica è già una bomba atomica lo sarà ancora di più quando uscirà e poi naturalmente si darà si darà anche fuoco alle micce per quello che riguarda Elite FIBA bisogna vederti suonare dal vivo io mi ricordavo mentre venivo qua questa sera noi ci siamo conosciuti nel lontano 1995 tu non te lo ricorderai perché a pochi metri da noi è stato fatto il concerto di inaugurazione dell'associazione Rock No War e tu sei stato uno dei protagonisti di questo concerto sotto la tenda con Paolo Belli Aldo Giovanni Giacomo con tutti quelli che hanno detto di sì e tu ti ringrazio a nome mio e degli altri di essere stato con noi detto questo parlavamo poi facciamo anche un'altra tappa a Udine se non mi sbaglio si fece non so se era Udine so che era sì era nel nord Italia però non mi ricordo forse allo stadio o qualcosa del genere legato anche forse a una partita di calcio vabbè ma comunque l'importante è che eri con noi nel 95 allora parlavamo del tuo impegno ambientalista che tu racconti nel libro tu avevi l'abitudine di tutte le volte che andavi a passeggiare in una spiaggia e portare dietro un sacchettino dove mettere dentro quella uno due massimo tre bottiglie o lattine che trovavi poi in realtà ti ritrovavi ad avere la necessità di averne non una non due non tre eccetera eccetera da lì è nato un progetto quello cioè di portare tanta gente sulle spiagge per pulire le spiagge e quindi per pulire anche il mare come sta procedendo questo tuo progetto grazie per averlo citato dunque il progetto si intitola Clean Beach o Clean River dipende se ci incontreremo per ripulire una spiaggia o un litorale o un fiume se è un lago allora è Clean Lake Clean Lake certo sì sì assolutamente sì sì cioè si adatta purtroppo a tantissime a tantissime situazioni anche perché ormai l'impatto l'impatto dell'uomo sul su pianeta terra è diventato estremamente significativo lo dico nella canzone Picnic all'Inferno nella quale ho avuto l'onore di ricevere l'ok di Greta Thunberg per utilizzare la sua voce quindi un duetto vero e proprio con Greta Thunberg e e quindi questo Clean Beach è nato appunto una volta durante Laguna di Miele con Gianna eravamo partiti con il nostro con il nostro camper giù in Maremma siamo andati in uno dei posti dell'anima per quello che mi riguarda per quello che riguarda il mio rapporto con la natura cioè la Laguna di Orbetello dove invito tutti di andare perché ad andare perché è un posto incredibile e appunto usci dal camper col solito sacchettino per raccogliere quelle plastiche che può capitare di incontrare in quel caso invece mi sono trovato di fronte ci siamo trovati di fronte a un vero e proprio disastro ambientale che evidentemente scusate era andata via la linea per un attimo si si sentiva solo la voce però proprio una manciata di secondi perché evidentemente qualche eco mafia aveva aveva raccolto aveva raccolto abusivamente molte tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati scaricandoli nel mare una grande mareggiata aveva insabbiato tutti quei rifiuti sulla spiaggia della Feniglia la mia indignazione è stata enorme e uso questa parola per non usarle per usarne altre più pesanti e quindi ho detto bisogna partire assolutamente con una task force per ripulire questa spiaggia ho chiamato gli amici di Lega Ambiente poi loro si sono collegati anche con il WWF i ragazzi di Fridays for Future Toscana o comunque della zona di Grosseto e in poche ore abbiamo raccolto più di 7 tonnellate di rifiuti sulla Feniglia la cosa è piaciuta tantissimo ha funzionato tantissimo anche a livello di risposta del pubblico insomma del pubblico il pubblico non è corretto diciamo di tutti gli amanti dell'ambiente perché eravamo molte centinaia di persone quindi ho pensato di bissare durante i giorni di Sanremo sulle spiagge di Sanremo che sono che comunque sono anche loro bandiera blu però con le microplastiche non c'è è una lotta è una lotta durissima microplastiche soprattutto il polistirolo il maledetto polistirolo e anche lì abbiamo raccolto almeno una tonnellata e mezza in una sola spiaggia di 150 metri la Feniglia sono 6 chilometri e poi c'è stato il terzo appuntamento in Friuli alla foce del fiume Isonzo il Friuli è una regione meravigliosa che io sto scoprendo ultimamente dove sembra di essere in nord Europa è pulitissima è ordinatissima c'è un rispetto per la natura di altissimo livello però nonostante tutto anche lì sulle spiagge erano arrivati tantissimi detriti ora il prossimo appuntamento sarà appunto un clean beach e sarà il 14 di maggio alla foce del fiume Ombrone a Grosseto bene quindi invitiamo tutti i nostri amici che si stanno seguendo di fare una gita un'escursione di venire insieme a Piero per raccogliere tutto tra i giorni 14 15 e 16 e potete contattare gli amici di Legambiente di Festa Ambiente lì a Grosseto a Rispescia Allora un paio di domande per chiudere perché come direbbero a Roma si è fatta una scerta e quindi due cose allora prima abbiamo scherzato sul 40 41 anni l'ultimo vale 5 anni eccetera però in questo lungo periodo le strade le tue strade come quelle di tutti noi sono incrociate con tantissime persone e alcuni amici li abbiamo lasciati per strada io volevo ricordarne uno e volevo anche il tuo di ricordo volevo ricordare Enriquez della banda Bardot che ci ha lasciato poco tempo fa e ha lasciato un grande vuoto non solo nella musica ma un grande vuoto nella cultura italiana o subcultura come qualcuno la vorrebbe definire voi se non sbaglio siete di fatto cresciuti insieme guarda con Enriquez che saluto ovunque sia ci siamo conosciuti da ragazzini perché io lo dico anche nel romanzo ero amico d'infanzia dei suoi cugini che vivevano vivono a Firenze non lontano dalla mia zona quindi facevamo un po' i ragazzacci di strada quando eravamo alle scuole alla fine delle scuole elementari le medie eccetera Enriquez viveva all'estero con la sua famiglia però quando venivano in Italia ci si incontrava e siccome eravamo tutti e due molto appassionati di musica credo che lui sia stata la prima persona con cui abbiamo discusso di musica da quando eravamo piccoli naturalmente confrontando i nostri gusti musicali lui tra l'altro appunto venendo da Lussemburgo avevamo comune anche diciamo la passione francofona e quindi anche tutto quello che concerneva la musica che veniva da quelle zone quindi dai diciamo da Jacques Brel Brassens fino a Plastic Bertrand Saplan Pour Moi i Telefon i Trust e poi anche quegli altri gruppi del periodo New Wave come i Minimal Compact ad esempio una stupenda band belga israelita estremamente interessante allora siamo praticamente all'altermine io prima di chiudere volevo fare i ringraziamenti prima perché così siamo sicuri che la gente aspetta l'ultima domanda sta qua un ringraziamento particolare va a Paolo che ci sta permettendo di andare in onda con il suo lavoro alla regia Leonello che ha curato tutti gli aspetti gli altri aspetti tecnici organizzativi poi la Mondadori Bookstore che a Carpi e a Mantua che ha a disposizione copie autografate io me ne sono fatta dare una non so se si vede con la luce comunque questo quello scarabocchio lì è l'autografo di Piero Pelù quindi per chi fosse interessato per chi volesse trovare spacca l'infinito il romanzo di una vita edito da Giunti con autografo alla Mondadori di Carpi che sono nostri partner in questa iniziativa allora per chiudere c'era un film di Aldo Giovanni e Giacomo che si chiamava Chiedimi se sono felice la stessa domanda te la fa il bambino che di fatto è il coprotagonista del romanzo e ti chiede sei felice? beh la felicità è una parola estremamente pericolosa e probabilmente anche inesistente almeno non esiste pienamente nel mondo di P però diciamo che ci sono ci possono essere dei bei momenti anche abbastanza prolungati di felicità naturalmente intercalati da anche momenti di grande blues perché il blues è sicuramente una delle anime fondamentali di P e il mix di tutte queste cose diventa musica quest'estate io girerò con i bandidos suoneremo a tappeto tra l'altro vi do anche vi dico in anteprima che avrò anche sarò in giro anche con un tour teatrale insieme a un grandissimo giornalista per parlare per parlare di Dante non posso anticipare troppo no dico non hai detto nulla che devo venire con te a fare questo tour teatrale vieni assolutamente guai se non vieni ma stiamo scherzando per lui anche perché ragazzi io vi leggerò Dante Rock attenzione quindi allora noi ci siamo appuntati un po' di cose il 14 15 16 saremo con Lega Ambiente a pulire il nostro mondo a tentare di pulire il mondo poi tu sarai in tour tour teatrale forse con Aldo Cazzullo allora se si parla di chi lo sa però la buttiamo lì così chissà se farai anche lì il volo d'angelo sulle prime file della platea teatrale staremo a vedere anche quello e poi ti aspettiamo dipende da chi c'è ti aspettiamo dal vivo per i concerti se non faccio il volo dell'angelo posso fare sempre qualche scippo l'ho fatto a Sanremo esatto allora Piero io ti ringrazio di aver dedicato questa oretta al nostro incontro grazie grazie a voi in culo alla balena come si dice in questo caso speriamo di tornare presto tutti dal vivo soprattutto di poterci abbracciare noi italiani abbiamo bisogno di questo contatto fisico questa sera ci abbiamo provato a fare questo contatto speriamo che sia arrivato ai nostri amici che ci hanno seguito Piero ciao grazie Pierluigi ciao Radio Bruno ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce ci vediamo in giro quest'estate comunque vada ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti